È la prima volta in assoluto che noi svolgiamo questa giornata proprio per i ragazzi autistici. Quindi per me è una novità in assoluto. Che ci sia una giornata mondiale proprio sulla consapevolezza dell'autismo è ancora più importante, proprio perché avere la conoscenza e quindi la connessione dell'autismo, questa è la cosa che noi dobbiamo trasmettere ai nostri ragazzi, significa conoscere questa sindrome che ancora ha tantissimi lati oscuri ed avere la consapevolezza e la capacità di poter avere contatti e una comunicazione efficace con soggetti che abbiano tratti autistici e anche delle caratteristiche particolari, perché innanzitutto è una sindrome che ha tante sfaccettature, poi lo diranno anche gli esperti di oggi, per cui avere una conoscenza di questa sindrome è importante sia per gli operatori ma anche per il contesto in cui il ragazzo deve interagire e quindi i ragazzi della classe e i genitori dei ragazzi della classe. Ecco perché è così importante parlarne e far conoscere tutte le caratteristiche e le sfaccettature di questa sindrome. Noi siamo stati fortunati e ringraziamo proprio ufficialmente la Preside perché ci ha dato questa opportunità, ha accolto a braccia aperte la nostra proposta di sensibilizzare le classi dei nostri ragazzi, i genitori, il gruppo docenti a questo momento molto importante. Vorrei lanciare un messaggio, è importante che noi genitori iniziamo a fare gruppo perché il singolo non ha più possibilità di creare un futuro concreto per i nostri ragazzi. Abbiamo bisogno di far gruppo per proporre. Spesso vedo un atteggiamento negativo riguardo a quello che non abbiamo. Io direi di cambiare un pochino e di essere propositivi perché come abbiamo visto le proposte vengono accolte, vengono accolte le idee e dobbiamo sensibilizzare il territorio per costruire qui a Dischia un futuro dignitoso per i nostri figli. Incominciamo dalla scuola dove c'è formazione e informazione. Proprio per l'autismo che porta all'isolamento, fare unione, fare coesione è importantissimo, è fondamentale. Quando hai un ragazzo autistico fare ogni cosa, anche andare a fare la spesa, magari andare a un cinema, andare a mangiare una pizza al ristorante diventa tutto molto molto complicato perché ti senti sempre gli occhi addosso, giudicata, ma forse quella perché fa così, è maleducata. C'è molta ignoranza sull'autismo, per questo queste occasioni sono importanti, proprio per diffondere, per sensibilizzare una realtà che è sempre in crescita. Dobbiamo essere un poco più aiutati noi genitori, non lasciati a noi stessi perché i centri sono pochi e non offrono tanto per i nostri figli. C'è da fare molto, molto di più.